Il trasloco dalla storica sede della Mater Dei è finito ormai da tempo. La nuova sede dell'oncologico di Bari, nell'ex Cotugno, è pronta anche per i ricoveri. Una buona notizia a metà perché manca solo l'autorizzazione sanitaria della Regione Puglia, attesa per la prossima settimana. I pazienti oncologici finalmente possono contare su una struttura dotata di apparecchiature innovative, si pensi all'Angiotache, all'Iort e di reparti efficienti come quello del trapianto di midollo osseo, costato 2 milioni e mezzo di euro, ma che potrà essere attivato, non appena ci sarà il personale necessario. Ci sono anche gli uffici del centro unico di prenotazione, oltre che reparti diagnostici all'avanguardia. Al momento, gli unici pazienti però autorizzati ad entrare nella nuova struttura sono quelli che devono sottoporsi alla radioterapia. Ma nei prossimi giorni dovrebbe essere aperta anche a tutti i tipi di ricoveri, dal momento che la struttura dispone di sei sale operatori e 120 posti letto. La nuova sede può contare su 400 dipendenti, di cui 80 medici, 30 amministrativi e quasi 300 del settore infermieristico, che dovrebbero essere aggiunti ad altri 30 fra assistenti sociosanitari ed ausiliari. Non manca però neppure lo spazio per i parcheggi riservato ai pazienti e al personale sanitario ed infermieristico. Inoltre, a dispetto delle polemiche innescate nei giorni scorsi, va detto, come vedete dalle immagini, che c'è anche la cappella. Chiunque voglia trovare conforto nella preghiera potrà farlo quindi in un luogo più idoneo. L'ingegnere Giancarlo Salomone ha realizzato anche una ludoteca che forse la direzione generale potrebbe decidere di aprire ai residenti del quartiere Poggio Franco. La ludoteca comunque è nata per ospitare i figli dei familiari che fanno visita ai pazienti dell'oncologico. Dal canto loro, gli studenti dell'Istituto Artistico dei Nittis di Bari hanno contribuito con i lavori ad abbellire le pareti dell'oncologico in modo da rendere la struttura più confortevole. Al posto di spoglie e bianche pareti ci sono una sessantina di opere, come previsto dalla convenzione a titolo gratuito sottoscritta dal direttore dei lavori dell'ex Cotugno Giancarlo Salomone e dalla preside Margherita Viterbo, un modo per considerare l'arte messaggio di speranza e atto d'amore nei confronti degli ammalati.